Io sono Rocco Munno, sono nato il 138-46 a Damantea. Vivo a Damantea dai miei 66 anni che inizio quest'anno. Da una vita aggiusto biciclette e vendo biciclette, perché la facevo mio padre, la facevo mio fratello, quindi ho continuato io. Io qui ci dormirei addirittura, è la mia vita questa officina. Io la mattina mi asso alle 5 di mattina per venire qua, non è che lavoro, però mi piace stare in officina. A me non mi deve togliere questa officina, non mi deve togliere la bicicletta. Io faccio una vita secondaria, vado a mangiare le 12 e mezza, le 2 mi faccio la camminatina a 10 km. La sera alle 8 e mezza, se c'è la Juventus, non se ne parla proprio, perché qui stai parlando con il tifoso juventino, il più forte del terreno cosentino. E tutti che mi conoscono, sia per la Juventus e sia per il cosenza calcio, che devo dire. Tutto è bello, come strade, c'è questo castello che è spettacolare, vedete. C'è questo mare che non se ne parla proprio, io la mattina quando vado all'estate dei padri e Pio e vedo il mare, lo dico sempre, quanto è bello la mantella. Questa è la mia bicicletta, io mi chiamo Rocco Munno, vendo e riparo biciclette e sono orgoglioso di questo paese. Io pompio, non pombo più. Senti. Ci cambio la camera, direi che questa è una bomba, questa è la mia maglia.